Siamo qui al paddock della Mille Miglia con Jackie Hicks, leggenda del motosport. Come mai da queste parti? Come mai? What are you doing here? Le Mille Miglia non sono da presentare, era la cosa la più famosa del mondo, anche se io non l'ho fatto perché in realtà era nato, ma non poteva guidarmi. E adesso con l'idea dell'Automobile Club di Brescia, già in 88, da rifarla, di continuare la tradizione di andare da Brescia a Roma e ritorno, è stupendo. È l'anima degli italiani che va verso le vetture di corso e qui ci sono le più belle vetture di corso del mondo. Che tipo di vetture avrai? Io guido con il signor Scheifele, il padrone della Chopin, una Mercedes 300 SL. Ci occupiamo principalmente di Monza. Che ricordi hai di Monza? Beh, io ho visto una foto adesso della Cupra Maserati a Monza, negli anni 70-67, dove io ho preso il mio primo punto nel campionato. E il circuito di Monza, nella storia cos'è? La storia fa parte, è una vista che fa parte dell'istoria delle vetture di corso, tante le vetture che le moto. Hai corso per decenni, qual è la vittoria o il traguardo più importante che hai raggiunto? Sono tutti uguali perché l'idea è di vincere, che è una corsa di turismo, di prototipo, di Formula 1, un'idea globale di essere, se tu lo potete, essere il migliore. Sono uguale. Io devo dire che ho avuto molto fortuna perché ho guidato vetture ottime e queste vetture sono fatte di gente che tu non vedo mai, che sono meccanici, ingegneri e quando tu hai la macchina giusta è facile di vincere in certa maniera. E una domanda un po' difficile, cambieresti una vittoria alemane con un mondiale di Formula 1? Io non penso così. Per me ho avuto molta fortuna dappertutto, d'accordo, ma le corse di tutto terreno come il Paris-Dakar mi hanno imparato a guardare le altre in maniera diversa perché in questi paesi la vita è molto difficile. anche se tu sei famoso o conosciuto, di là tu sei a livello zero e tu non puoi dire nessuna bugiardia alle altre.